buongiorno buongiorno amici ben ritrovati faccio questa diretta molto veloce giusto dieci minuti perché voglio condividere con voi devo condividere con voi una cosa di cui sono venuto a conoscenza qualche giorno fa e niente non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio a capacitarmi di queste cose buongiorno da matteo gracis io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero e spesso confuso in giornate come oggi sono estremamente confuso guardate che capelli che mi vengono guardate che roba ma come si fa ma come si fa a non a non a me quello che mi spaventa di più l'indifferenza di massa che c'è di fronte a questa cosa ma suona tutto non rispondo non me ne frega un cazzo di niente smettete ma come si fa essere indifferenti voglio farvi vedere delle immagini voglio farvi vedere delle immagini con voi perché devo condividere questo disagio come faccio a tenermelo tutto dentro guardate che cosa siamo arrivati a fare ma che cos'è ma che cosa state facendo perché ma che cos'è questa roba è un film horror puttana è un film horror ma come faccio a non utilizzare parolacce ma come faccio a stare tranquillo ma come fate ma come fate ditemelo ma che cos'è neanche nel peggiore dei miei incubi ho immaginato una cosa del genere è realtà è realtà ma che cos'è questa roba qui le visiere ai neonati ora uno mi potrebbe dire ma guarda che è un video su tik tok non sarà mica cioè poi sapete magari non 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 quello che vedi poi oggi nel mondo moderno viene tutto cambiato fanno in video montaggi no potrebbe essere diversa realtà e allora ho fatto due ricerche in croce perché ho detto dai non ci credo non può essere vero probabilmente quei neonati sono in un reparto particolare hanno qualche patologia e invece no e invece no signori ma magari ma magari no questo qua è un video dell'ansa pubblicato dal canale youtube del sole 24 ore il 13 aprile il 13 aprile scorso eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua ma perché ma qualcuno mi deve spiegare il perché stiamo facendo una cosa del genere riguardo un virus che per i bambini per i neonati è innocuo a livello scientifico statistico ce lo dicono i numeri ce lo dice la stessa scienza alla quale dobbiamo a tutti i costi a tenerci questo virus è innocuo nei confronti dei neonati dei bambini ma cos'è sta roba e come facciamo ad accettare una cosa del genere siamo tutti complici siamo tutti complici di una cosa del genere chi osa mettere in dubbio mettere in dubbio queste cose è un sovversivo è un ribelle è un negazionista è un complottista ma andate a fare in culo ok se io devo accettare questa cosa come la nuova normalità questo è un abominio è la fine dell'umano cosa ci mostrate un neonato con la mascherina sono le 24 ore le protezioni vengono usate per il viaggio verso casa dei piccoli ma quale protezione ma quale protezione per quale motivo perché stiamo parlando di un virus che ha detta di uno dei virologi italiani più rinomati il dottor Bassetti vi faccio leggere questa recente notizia questo lancio della dn kronos più anziani in reparto ma il 99 per cento guarisce non lo dice Matteo Gracis lo dice lo dice il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova il 99,6 per cento il 99,6 per cento guarisce stiamo parlando di persone anziane ok nel caso dei neonati sono tutti tutti i casi che sono verificati tamponi positivi sono tutti asintomatici tutti e cosa fate voi nei confronti di un virus del genere fate questa roba qui e noi a testa bassa e noi a testa bassa in silenzio ad accettare tutto ad accettare tutto dobbiamo vergognarci di essere complici di queste cose qui dobbiamo un attimo fermarci signori miei tutti quanti e iniziare a sviluppare un po' più di pensiero critico smettendola di dividerci per etichette io credo in questa cosa non credo in questa cosa credo nelle istituzioni non credo nelle istituzioni è tutta una farsa smettiamola con queste guerre tra i poveri fermiamoci un secondo e guardiamoci intorno a quello che sta succedendo se ci avessero detto un anno fa che adesso sarebbero successe queste cose non ci credavamo pensavamo che fosse un film di fantascienza un film d'horror oggi è realtà dove stiamo andando? io vi chiedo dove stiamo andando? è possibile che non ci sia una voce critica nel panorama dei mass media? è possibile? ma come diavolo si fa ad andare avanti a testa bassa come le pecore? e a non porsi queste domande, dei dubbi io pongo delle domande, non lo so qualcuno mi dica se ha un senso tutto questo probabilmente non lo so io perché sono ignorante, lo ammetto e allora rispondetemi voi ditemi perché state mettendo delle mascherine a dei neonati appena nati nel momento in cui c'è un virus che è innocuo per i neonati e che uccide persone con una media d'età di 80 anni con almeno una patologia grave pregressa questo ci dice l'Istituto Superiore di Sanità Italiano e allora non capisco spiegatemelo voi basta, per oggi mi fermo qua sì, sono incazzato sono incazzato perché non accetto questa follia non accetterò mai non accetterò mai questa follia se volete condividere il mio pensiero condividete il video fatelo girare cerchiamo di far arrivare queste informazioni a più persone possibili grazie Don Matteo Gracis è tutto grazie a tutti